A spasso tra i sassi di Matera Da vergogna nazionale, a patrimonio dell'umanità, il passo è veramente grande, ma questo è un percorso che i sassi di Matera hanno vissuto per davvero. L'UNESCO ha definito i sassi come paesaggio culturale, a testimonianza del fatto che l'uomo da sempre qui ha privilegiato la vita in grotta, dimostrando un particolare adattamento con l'ambiente. Nel 1950, l'allora presidente del Consiglio Alcide de Gasperi, in visita al luogo, ne fu talmente colpito che conferì al deputato Emilio Colombo il compito di perdisporre un piano di sgombero per il conseguente risanamento dei sassi di Matera, dove le condizioni umane erano al limite della sopravvivenza. Con l'appellativo dei sassi si intendono i due quartieri che costituiscono la città, vale a dire Sasso Caveoso e Sasso Barisano. Le due valli che li comprendono sono divisi dalla rupe della civita sulla quale è ricavata la cattedrale romanica. Nella pietra dei sassi sono stati effettuati scavi per ricavare chiese, monasteri e conventi, così come tutta la città è stata scavata a ridosso del burrone ed alcuni reperti rinvenuti testimoniano della presenza dell'uomo qui già dal Paleolitico, che ha vissuto fino agli anni 50 del secolo scorso. L'abitazione tipica all'interno dei sassi di Matera si dispone su tre livelli, comprendendo anche la stalla, la cantina e la cisterna. Nella maggioranza dei casi si trovavano ambienti misti ed era molto comune, ad esempio, avere camere da letto che ospitavano sia le persone che gli animali. A partire dal 1952 sono state abbandonate le abitazioni dei sassi ed oggi molte di esse, trasformate in alberghi e strutture ricettive, vengono proposte ai numerosi turisti come opportunità di vivere l'atmosfera della vita in grotta. Attualmente si possono visitare molte case grotta, nella quale c'è la ricostruzione dell'ambiente di com'era prima dell'avvenuto sfollamento, con arredi ed attrezzi del periodo di appartenenza. Inoltre, nello storico Palazzo Pomarici si trova il Musma, Museo della Scultura Contemporanea di Matera. Buona visita!